Hai installato un impianto fotovoltaico. Un'azione intelligente per te e per il pianeta. E per la bolletta? Fai una scelta consapevole. Scopri Nui Energetic, la prima azienda a luce e gas per chi, come te, ha scelto l'energia solare. Ti chiedi se il tuo impianto è al massimo? Quali incentivi ti spettano? Come puoi ridurre ancora la bolletta? Nui Energetic ha le risposte che cerchi. Con la nostra offerta luce e gas, avrai accesso gratuito, per sempre, alla piattaforma esclusiva MioFotovoltaico. Dall'efficienza del tuo impianto agli incentivi GSE a cui hai diritto, fino ai consumi del contatore tradizionale. Tutte le informazioni a portata di mano. E la bolletta? Trasparente e più leggera. Il PUN, ovvero il prezzo all'ingrosso, più un centesimo. Passa all'energia consapevole. Scegli Nui Energetic. Contattaci per una consulenza. Contattaci per una consulenza. Contattaci per una consulenza. Grazie a tutti.